Il paniere di Merlini Nel cuore dell'oltrepop avese la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici. Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multicereali, ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria. E ancora affettati freschi, frutta e verdura. A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951. Si chiama Il Tempo della Storia, il concorso in cui 89 studenti delle scuole medie superiori si sono dati battaglia sul tema Il XX secolo, quadri di un'esposizione. Buongiorno a tutti gli amici di Occhio Pavese, siamo al Liceo Classico di Voghera in compagnia di tre studenti di questo istituto, Marta, Federico e Davide, che dopo aver superato una prova scritta e successivamente anche una orale valutata da una commissione giudicatrice presieduta da Antonio Sacchi, che tra l'altro è l'ideatore di questo concorso e anche altri docenti delle scuole superiori e dell'Università di Pavia, partiranno per un viaggio studio in Spagna, tra l'altro in occasione dell'anniversario della guerra civile spagnola. Non posso che chiedere proprio a Marta in che cosa consiste questo concorso. Intanto buongiorno. Buongiorno. È un concorso che è nato negli anni Ottanta e è stato ideato da Antonio Sacchi con l'intenzione di far vivere ai ragazzi proprio la storia, perché era un periodo di guerra fredda e quindi con questo concorso si è voluto dare l'opportunità a molti ragazzi come noi appunto di camminare sui luoghi della storia e di viverla. Letta sui libri sicuramente non si riesce davvero a comprendere quello che è successo, i fatti come invece viverli, visitare i luoghi e magari conoscere anche direttamente delle testimonianze delle persone che hanno vissuto in prima persona delle esperienze. Allora, il concorso di per sé consiste in due prove, una prova scritta che si è tenuta a fine gennaio e un mese dopo invece una prova orale e il programma riguardava la storia del Novecento a partire dall'attentato di Sarajevo, quindi il 1914 fino al 1957 con la nascita da Gacie e della Comunità Europea. Quindi è una parte che va anche oltre a quelli che potrebbero essere i nostri programmi scolastici e abbiamo dovuto prepararci appunto per sostenere queste due prove. Ecco, di questa parte di storia, di questa parte di cammino, che cosa ti ha colpito particolarmente? Beh, sicuramente la storia del Novecento penso sia la parte più interessante di tutti i cinque anni, non lo penso solo io credo, e di questo periodo probabilmente insomma il discorso sui totalitarismi che è ancora molto attuale secondo me e poi anche ciò che va al di là della Seconda Guerra Mondiale, però per capire i temi di attualità e del mondo di oggi. Sì, perché poi insomma oggi non è altro che il risultato di quello che è avvenuto dal dopoguerra in poi. So che la vittoria di questo concorso vi permetterà di fare un bel giro, un bel giro turistico e raccontateci dove. Prima di tutto la Catalogna e i Paesi Baschi. Le cose più importanti che vedremo in queste due località saranno Barcellona e Guernica. Oltre a queste località l'Agenzia di Viaggio ha organizzato anche un tour abbastanza, diciamo, preciso e sistematico della zona e perciò sono convinto che vedremo molte località interessanti. E ci hanno raggiunto altri tre studenti, Federico, Chiara e Matteo, Federico e Chiara proprio del liceo classico e poi abbiamo l'unico rappresentante invece del liceo scientifico Galileo Galilei. Come mai è stata scelta la Spagna come meta di questo viaggio? Sì, allora la Spagna è stata scelta per via della storia travagliata che ha avuto nel Novecento, esattamente la guerra civile spagnola dal 1936 al 1939 a cui è seguita la dittatura di Francisco Franco che si è protatta fino agli anni Settanta. È la prima volta che viene organizzato un viaggio in Spagna per via del cosiddetto patto dell'olvido, cioè del patto del silenzio per cui le due fazioni che erano in guerra durante la guerra civile spagnola hanno deciso di non ricordare quel periodo così doloroso della storia novecentesca della Spagna. Sì, sicuramente il nostro programma era molto vasto e siamo dovuti partire dalla prima guerra mondiale per arrivare poi fino al 1957. Una cosa che mi ha colpito molto comunque sono state le prime tappe del processo di unificazione europea che abbiamo, fino a cui siamo arrivati. infatti la storia del Novecento non è soltanto guerre ma è anche una fase di collaborazione a cui si è giunti con una maturità che prima non si aveva. Matteo è l'unico rappresentante del liceo scientifico. Sì, è vero, sono l'unico del liceo scientifico, però la storia penso che sia una materia quanto più universale ci sia perché riguarda tutti e ciascuno di noi e affrontarla nel modo come l'abbiamo per l'appunto affrontata per questo concorso è sicuramente fondamentale per ciascuno di noi. Poi due miei compagni l'anno scorso avevano vinto e me ne avevano parlato molto bene che è una esperienza molto forte tant'è che molti ex vincitori ritorneranno al viaggio perché c'è questa possibilità e quindi ho deciso di affrontarla nonostante per l'appunto il mio percorso di studi sia prevalentemente scientifico, fisico e matematico. Cosa ti hanno detto i tuoi professori? Sono stato molto spronato dalla mia professoressa di storia e filosofia e infatti mi hanno anche aiutato con dei corsi pomeridiani. È stato molto piacevole avere anche questo supporto. E ci hanno raggiunto anche due studenti dell'Istituto Gallini ovvero Alessandro e Michela. Come mai questa passione per la storia? Io nello specifico è fin da piccolo che coltivo una passione per quello che sono i conflitti soprattutto della storia del Novecento. Sono un appassionato della Seconda Guerra Mondiale e questo mi ha spinto a partecipare prima un po' così quasi per provarci, per svago allo scritto. Poi ero anche sorpreso di averlo passato e l'orale non si è rivelato una prova impossibile e sono parecchio felice di essere qua ora. Cosa ti affascina così tanto dai conflitti? Non lo so, se devo dire nello specifico quello che è l'avanzata tecnologica che portano i conflitti perché se noi ci pensiamo molte tecnologie che adesso utilizziamo come i radar così avanzati sono stati messi a punto durante la Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente ci sono delle aspettative prima della partenza, immagino, quali sono le tue? Tu sei anche la più piccola, la più giovane, diciamo così, no? Io mi aspetto prima di tutto di poter comprendere meglio con questo viaggio quello che ho già studiato appunto per il concorso, capire meglio quali sono stati i sentimenti quali sono state le gioie e i dolori soprattutto partite dal popolo spagnolo vedendo dal vivo i differenti luoghi come ad esempio appunto un esempio molto eclatante a Guernica e vedere come è stato vissuto dal popolo spagnolo questa grande tragedia che è stata la guerra civile spagnola e poi mi aspetto appunto di imparare molto sia dal punto di vista storico che dal punto di vista umano proprio E poi ci sarà anche una condivisione tra di voi perché insomma siete tanti ragazzi e tanti studenti che alcuni tra l'altro non si conoscevano prima d'ora e come sarà secondo te? Come andrà proprio questa condivisione tra voi? Secondo me appunto dal punto di vista umano intendevo questo questo scambio di idee, di opinioni, di modi di vivere fra le differenti scuole noi dell'istituto tecnico, quelli dell'iceo classico, scientifico secondo me potrebbe dare la vita a una cosa bella Sono d'accordo e allora magari li rivedremo al ritorno io per il momento vi ringrazio, grazie mille a voi, grazie mille agli altri ragazzi e alla prossima Socchio Pavesa Parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti e per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spotchiocciolaocchiopavese.it Riparti con noi, riparti con Occhio Pavese Grazie a tutti!